Salve Michele, buongiorno. Possiamo rubarle qualche minuto? Possiamo fare qualche domanda? A quali domande? Vogliamo capire un po' come sta andando, cosa sta succedendo, come sta vivendo questa attesa. Sto vivendo e già si vede, non ho un lavoro, la sera non posso uscire di casa, il lavoro che io avevo è fuori a vetrana e non ci posso andare perché è fuori zona e non ci posso andare a lavorare. E poi non è vero come hanno sempre detto che io come vivo, che ho preso soldi dagli giornalisti o dagli che sia, la mia famiglia non ha preso mai una lira perché non vogliamo sprecare su questo. Come sta vivendo? Con quali risorse? Quali risorse? Meno male che non c'è mia cognata Maria che mi ha dato a mangiare. Questo è. Come procede la sua vita? Sono stati due anni molto complicati. Sì, purtroppo non si può tornare indietro. La sua giornata come le sta vivendo? Io vado in campagna, ma è la mia campagna. C'è qualche amico che mi ha fatto fare qualche lavoretto. Perché lei non può uscire da vetrana? No, da vetrana sì, fuori a vetrana non posso uscire. Da vetrana non può uscire? No, perché io dove lavoravo prima sono tutte fuori a vetrana, per esempio provincia Nardò, provincia Manduria, Erchie e non posso uscire fuori zona. Quindi qualche lavoretto insomma qui intorno? Qualche lavoretto? Ma se tutti dicono che sono una brava persona, perché non mi fanno lavorare? Questo è. E poi in campagna da lei? Quello resta un passatempo? Un passatempo sì, però il prodotto non ce n'è adesso, perché le olive cominceranno in seguito. Quali sono i suoi pensieri ricorrenti? Io non lo so, guarda. Io non ho solo tanti ricordi e basta. Ricordi della sua famiglia, ricordi di quello che è accaduto? È tutto, è tutto. È tutto. Con sua moglie e sua figlia? Ha mantenuto i contatti? Vi vedete? Le va a trovare? No, non ci vediamo. Non ci vediamo. Pure quando è in udienza nemmeno uno sguardo, niente. Questa cosa quanto le pesa? Mortissimo. Loro non la cercano? Non vi scrivete? No, io scrivo, però non ricevo niente. Cosa pensa che ce l'abbiano con lei? Penso che sì. Ce l'hanno con lei nonostante tutti i tentativi che ha fatto di far capire come stanno le cose? Tanto nessuno mi crede che devo parlare più. Questo è. Sono diventato il burattino di tutti. Sono diventato. Tanto lo zio Michele, come tutti mi descrivono, tutto quello che fa è tutto sbagliato. Quindi. Cosa sarebbe giusto? Tutto, cosa sarebbe giusto? O mi credono o non credono. E questo è. Con sua figlia Valentina ha avuto più contatti? No, telefonicamente abbiamo contatti. E lei ha la sua famiglia là e io sono qua. E cosa vi dite? Cose, come stai a non fare cazzate, cose così. Cosa hai mangiato, come stai andando fuori a campagna. Poi non solo questo, ci hanno perso anche il libretto del gasolio, non si può riprendere nemmeno il gasolio dal consorzio agricolo. Devo andare alla colonnina, per 20 litri devo pagare 40 euro. Del gasolio per andare in campagna? Per il trattore, no? Per le macchine. Come si fa? Riesce a gestirsi da solo? Ha sempre vissuto con sua moglie, sua figlia, insomma con delle donne in casa? Non penso che se io rimango da solo che mi riesco a gestire da solo. Perché mia moglie ha fatto da uomo, da donna, quindi la contabilità la faceva sempre lei. A parte che lei era più intelligente, aveva più scuole. Io ho fatto un po' di scuola serale, mi arrangio un po' a scrivere, che ringrazio quelli che stanno, gli agenti penitenziari, perché mi dicevano, cioè mi incoraggiavano tutt'è più. Scrivi, non ti preoccupare, pure che sbagli, che fai, però fai in modo che si capisce. No, o ne metti due T, o ne metti tre, fai in modo che si capisce. E allora di lì ho cominciato a scrivere, perché prima non scrivevo. Non scrivevo. Le posso chiedere a sua moglie che cosa scrive? No, su questo non lo posso dire. No. Sono pensieri vostri personali. Sono pensieri vostri, sì.